1.300 interventi di riparazione sulle strade cittadine nel mese di febbraio, quasi il triplo rispetto allo scorso anno. L'amministrazione cittadina intensifica il lavoro sulle buche nelle strade, la cui formazione è favorita in questo periodo anche dalle piogge. Come noto, l'attuale situazione finanziaria del Comune non permette di affidare nuovi appalti per la manutenzione delle strade. L'amministrazione cittadina ha deciso allora di potenziare la squadra della Società Comunale di Napoli Servizi, che da alcuni mesi ha raddoppiato la forza lavoro, incrementando la frequenza degli interventi di colmatura delle buche. È stato poi attivato un sistema di monitoraggio civico anche tramite Facebook e Twitter, cui collaborano direttamente i cittadini e che consente un quadro più efficace della situazione in tempo reale. Ogni mese arrivano infatti circa 300 segnalazioni. I tamponamenti immediati, cioè per il pronto soccorso di un pericolo segnalato e poi si va comunque alla finitura con questo asfalto che è un conglomerato biduminoso, che la durata è molto 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 di più. In questo periodo il Comune effettua una media di oltre 300 riparazioni alla settimana. Il piano degli interventi è monitorato direttamente dallo staff del Sindaco. A fronte dell'organizzazione di una task force ad hoc, che è stata patrocinata dal Comune di Napoli e dal Sessorato dei Trasporti, la segreteria segue periodicamente i lavori, venendo con i lavoratori a segnalare le criticità, dove intervenire ovviamente in attesa che poi ci sia un vero nuovo asfalto da versare sulle strade in delle situazioni più difficili. Il problema che abbiamo sulle strade di Napoli è una situazione di cronico dissesto idrogeologico per il quale è necessario pure in essere dei nuovi lavori che mettano in sicurezza tutte le strade. Nell'ultima settimana sono stati realizzati, fra gli altri, interventi in via Diocleziano, viale Kennedy e via Montagna Spaccata nella zona occidentale e in via Marina, via Galileo Ferraris e Calata Capodichino nella zona centro-orientale. I lavori dei prossimi giorni riguarderanno diverse municipalità del territorio cittadino, fra cui il tondo di Capodimonte, via Provinciale delle Brecce, via Giustiniano, via Pisani e via Guantaia d'Orsolona.